Spiegamento, Ali! Fatto! Illuminazione! Ci siamo! Qui non parliamo di migrazione. Parliamo di avventura. Fa un po' paura? Certo. Ti serve un abbraccio. Mi lasci stare ora? Ti senti meglio? No. Non ha fatto ancora effetto. C'è tutto un mondo che noi ci perdiamo. Cose che nemmeno immaginiamo che esistano. Che cos'è? Anatra a l'orange. Cos'è un anatra a l'orange? Sei tu con l'orange sopra. Société Radio-Canada. Che believedishi.